Buongiorno a tutti, allora stiamo andando a passeggio, voi vi direte dove? Al lago di Como? No? C'è il covid, non possiamo andare sul lago di Como, siamo in zona arancione rafforzata, quindi mio marito mi sta portando a fare il giro dei cantieri stamattina. A breve vi farò un piccolo video dei nostri cantieri, ciao, salutarvi. Ok, questo è l'ingresso del nostro cantiere, è una villetta singola dove stiamo facendo una ristrutturazione completa. Faccio un tour molto veloce. Questa è la scala da cui si sale. Questo è il soggiorno dove stiamo finendo dei punti di cappotto interno, dove stiamo finendo la prima mano di rasatura. Faccio il video di quel pezzetto lì, perché adesso così non vi dice assolutamente nulla, ma quando ci sarà il marmo e la porta scorrevole, bellissima, sarà stupendo. Quindi ve lo faccio così, poi ve lo faccio quando è finito. Questo è l'ingresso dalla taverna secondaria. Grazie mille. Non ci siedono, non ci siedono? Non ci siedono, non ci siedono, non ci siedono.